Dov'è il telefono? Cosa è successo? Su, presto, metti. Chi è che spara? Su, dai, faccio. Ma chi spara? Sono sbarcati. Dammi la linea militare, presto. Il signor colonnello. Signor colonnello, tenente innocenzi. Accade una cosa incredibile. I tedeschi si sono alleati con gli americani. No. Allora tutto è finito, signor colonnello. Ma non potresti avvertire i tedeschi? Qui stanno continuando a sparare. Mi scusi, signor colonnello, ma cerchi di comprendere. Io ero all'oscuro di tutto. Quali sono gli ordini? Non sono riuscito a mettermi in contatto con il comando di corpo d'armata. Ho mandato un ufficiale. Comunque, se attaccano, dobbiamo difenderci. Diamo un forte al tenente di Fazio. Sì, signor colonnello. Loro hanno i carri armati, ma noi ci proveremo. La terrò informata, signor colonnello. Un momento, signor colonnello. I tedeschi hanno fatto fuori la nostra postazione. I nostri soldati hanno smesso di sparare. Che cosa dobbiamo fare? La postazione è stata annientata. Tutto è finito.